Caterina G3, Deltongo, Mastri Forti, Strafico, Mallucci, Gilardi, Bianchi, Bertagnoli e Masella A venire al comando la casacca di Malterbois 4-8-4, Marco Deltongo in prima posizione, 6-2-3, Mastri Forti in seconda, 4-8-3, Dallaro, Mallucci in terza Milano, Mastri Forti, Luz, 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 Luz. Baila, 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 Baila A finalista è tutta la proposta in details Pira la parola è rosa, il mantico è il quartico di materia Quarta parte, considerato, calzata, potente Il 5-8-4, grazie